Dal 10 al 12 settembre, ritorna a Pesaro la Fiera di San Nicola. Espositori di ogni genere, prodotti tipici, enogastronomia, artigianato e tanto altro. Un appuntamento irrinunciabile per gli amanti di fiere e mercati. Un'occasione unica per il tuo shopping. Fiera di San Nicola, lungomare di Pesaro dal 10 al 12 settembre. Vietato non esserci! Tutte le info su www.fierasannicola.it